Emanuele è stoico, cioè sei l'unico che abbiamo intervistato nella saletta perché sei da solo Esatto Cioè ma come cazzo fai così? Con poca roba Con poca roba Con poca roba Una roba pazzesca Esatto Però sei stato veramente ammirevole sia per la cura che abbiamo visto anche il venerdì sera nel setup dell'impianto E anche nella selezione musicale, sicuramente tra gli impianti più convincenti come sempre Abbiamo già descritto ampiamente il tuo sistema Basato sui diffusori Martin che apprezziamo tantissimo e che abbiamo anche in prova, lo ricordiamo Non questi ovviamente ma un diffusore di fascia E volevo sapere da te un bilancio di questi due giorni Perché ricordiamo questa è domenica 28 novembre, sono le 7 quasi di sera E hai dovuto cacciare a forza le ultime persone abbarbicate sulle sedie No davvero, volevo un bilancio di questa Devo dire per noi, perlomeno per me, molto positivo Perché l'affluenza è stata ottima Siamo stati sempre pieni E comunque ho notato veramente tanti apprezzamenti Quindi un gradimento da parte delle persone che sono venute qua ad ascoltare Notevole, quindi veramente tantissimi complimenti E sono veramente soddisfatto Senti qui hai portato un impianto, due impianti anzi Due impianti, sì Molto simili a quelli che abbiamo ascoltato con molto piacere al Milano e Fideliti Sì Sei settimane fa Più o meno ho riproposto le stesse cose Anche perché in questo periodo di penuria di materiali È difficile avere materiale Quindi molti erano stati venduti, molti prodotti Quindi ho riproposto più o meno le stesse cose Ecco, qualche variabile c'è Nel senso che abbiamo introdotto un nuovo prefono della Alnick Che è una novità assoluta Che è l'H6005 Un prefono sempre due telai E il secondo partendo dal basso della linea di fono Alnick Poi ho introdotto anche uno step up Che è lo step up della Ezuro Che è un gran bello step up, molto performante Diciamo che serve uno step up perché magari qualche persona non capiscono Esatto, lo step up serve praticamente per innalzare il livello delle testine Di guadagno delle testine Se c'è una testina che ha un'uscita molto molto bassa Allora serve lo step up per permettere al prefono di pilotarla meglio Poi ho portato anche un nuovo giradischi Oltre al 3 premium che avevamo già dimostrato a Milano Qui abbiamo portato anche la serie 5 Sempre nella versione premium E su quest'ultimo Oltre a un braccio smè Abbiamo montato anche l'entry level della testina Ezuro Ovvero la Cobalt Mentre sul 3 premium abbiamo montato il top di gamma della Ezuro Ovvero la Gold Come amplificazione sempre i tuoi cavalli di battaglia Absolair sulle Sulle parker duo Sul diffusore da stand E gli Absolair Pilotati Sono la versione Signature Un parallelo di single hand D845 Per una potenza complessiva di 50 watt E pilotati in questo caso Dal Prealnic LL6005 E sull'LL100000 La stanchezza si fa sentire E prodotto molto molto particolare Progetto anche questo particolare Perché utilizza 4300B come valvole preamplificatrici E poi ci sono i Solution Poi i Solution Questi piccoli amplificatori tascabili Esatto Esatto Molto piccoli e soprattutto leggeri Adesso che li dovrò smontare e ricaricare Sono la serie 7 La serie top della Solution Esattamente i 701 I due monofonici E in questo caso pilotati Dal Pre-Sempre-Solution Della serie 7 Il 7,25 E ascolta Com'è il bilancio Quindi estremamente positivo Immagino Sì, il bilancio Devo dire Veramente soddisfacente Sia per le richieste concrete Che ho ricevuto E soprattutto Per l'apprezzamento Poi devo dire anche Soprattutto anche di persone Magari non proprio audiofili Anche le donne che accompagnavano I mariti audiofili Che apprezzavano molto E facevano i complimenti L'ultima che è uscita Infatti ha detto Sembrava di stare in un concerto E apprezzato molto Quindi questo fa molto Sicuramente molto molto piacere Un'ultima domanda per te Perché per la maggior parte Le persone che non conoscono Audio Plus A Yende Tu hai una doppia veste Di punto vendita A San Benedetto del Tronto Che è molto vicino a Terra Quindi sono spesso Tu ospite Per ascoltare le tue delizie musicali Ma sei anche un distributore E qui hai portato tutti I tuoi prodotti Che distribuisci in esclusiva Sì sì Infatti Come si è potuto vedere Ho fatto anche un'esposizione statica Di un po' di prodotti Dai cavi Giorma I cavi Zenzati Taralabs Portato anche prodotti Diciamo un po' più di nicchia Come gli Enigma Sia l'amplificatore per cuffia Che i Super Twitter e i Sopranino Poi ho portato anche gli Alnick Ho esposto sia il modello Source Che è uno streamer convertitore E macchina completa Che il finale in classe AD Della Alnick Il Power 1000 E poi anche la linea più economica Della Lindemann Cioè la Lime 3 Nella versione Network Che è uno streamer completo Un entry level Di costo Di poco più di 1000 euro Molto molto interessante comunque Poi ho proposto anche il solution Il pre della serie entry level Ho esposto il 325 L'Alnick Lo stesso il pre entry level Della Alnick Il modello LL 2.1 Nella versione dell'AX E infine anche l'integrato Della Hub Solare Che è il modello Passion integrato Amplificatore integrato Da 150 watt Ibrido Con parte pre a valvole E finale Ha stato solido Benissimo Ti ringrazio Emanuele Ci vedremo presto Purtroppo Perché devo riportarti Le Martin Che abbiamo provato Un ascolto di Marco Cicogna Molto interessante E quindi ci vediamo presto Io adesso Sarei curioso di rimanere qui A vedere come So farai A metter via Questa robina Sarà molto molto dura In bocca al lupo Grazie Ciao Grazie Ciao Grazie Grazie Grazie.